Potete portarla così, potete portarla così, quindi con la spalla nuda, manica scampanata, bellissima, molto fresca, molto elegante, 59 Euro unica. Qui, ripeto, posso farvi veramente, avendovi fatto lo sconto, vi posso fare 50 Euro, meno non posso fare, amiche, 50 Euro unica. Una sola, una sola, 130, molto bella, molto particolare, quindi se vi piace portatele via perché sono veramente belle, come sono belli questi due cabane. Io vi dico, amiche, sapete che io vi consiglio sempre per il meglio, ma qui state vedendo veramente cose importanti, questa è una amicia che in negozio non ve la vendono a meno di 120-130 Euro. Cartellinata, sono sempre... Ha fatto invece la pizza Pier Ruben. Pier Ruben, cosa ci ha messo? Niente praticamente. Due cosie. Non ci ha messo niente praticamente nella pizza Pier Ruben, vuota, nemmeno il pomodoro, solo la focaccia. 40 Euro 1, 60 Euro 2, 85 Euro 3, ora pare, appena arriva basta, quando il gatto non c'è i topi ballano. Grazie amiche. Sono esagerati, io sto indossando il blu notte, 35 Euro 1, 45 Euro 2. Super saldi con la botto, amiche. Grazie, tirate su. Bellissime. Dai ragazze, dai! È bellissima, è favolosa. Ultime due possibilità, linea luxury, tessuto pazzesco, colore strepitoso, amiche, è regalata 59 Euro. Due pezzi, non ne ho altre, queste voleranno via, ve lo dico. Non aspettate, perché vestono 140-150 di giro seno, con lo spacco sul retro, fatte veramente bene, 59 Euro. Non aspettate, poi, guardate che camicia pazzesca, gigantesca. Ora vi escono tutte le caratteristiche a video, costavano 45 Euro. 45 Euro, sono uniche. Sono uniche, amiche, prima c'erano tanti colori, adesso sono rimasti solo questi. Vanno via ad uno sconto pazzesco. Amiche, regalate, veramente. 1,35, 2x45, correte! 30 Euro, bellissime, grandi, comode, larghe, AV, ma non è una V assolutamente pronunciata, anzi molto fine. 30 Euro 1, 50 Euro 2, favolose. Viola, fucsia, carta da zucchero nera e rosa. Amiche, correte! Perché sembri bracchetti, non so se è presente. No, non so. Dai, il trasformista, quello italiano, che si veste in 30... Ah, in 30 secondi, sì, è vero. In 2 secondi? Eh sì. Ma secondo me, io se voglio, lo batto anche, eh. Verde. Verde? Blu? Blu mia? Ok. Blu, blu, blu e viola, ok? Ok, perfetto, perfetto. Sono tutte favolose, amiche, tutte favolose. Tutto per venire a via. Via. Ti do il codice, Mark, 2029. Grazie, amiche. Veloce a confermare, 1,35, amiche, 2,45, stupende. Ma così rimane bordeaux e rosa. E poi c'è quella con la manica cadente, sempre rosa. Fantastiche, ultime. Bordeaux. Bordeaux via. Sono molto, molto eleganti. Sono belle e grandi perché vestono 140-150 di giro seno. Vado a controllare se le caratteristiche corrispondono. Giusto, perfette. Guardate che t-shirt favolosa. Costa. Partiamo con il nostro bel pomeriggio dedicato, amiche, a voi. Come sempre. Fucsia via. Grazie, amiche. Grazie di cuore. Guardate che bello. Puro olino freschissimo, raffinato, a 29 Euro. 2,45. Veste fino alla taglia 54-56. Quindi un camicione veramente importante. Ultimi tre pezzi. Ultime tre possibilità. Avete visto che DHL ha deciso di... Perché voi dite delle consegne, no? Io aspettavo questa cosa dal 24. Ma finalmente è arrivata di venerdì che c'è Pino. Dio ha voluto così. Abbiamo un abito bianco prima di questo. Abito? Come indossare questo? Beh, zebrato. Sì, zebrato. Quello lì. Sì, questo qua. 45 Euro. Bellissimo. 45 Euro. Favoloso. Sono tutti a... Guardate con la sneaker. Che meraviglia. Verdone. Verdone, via. Rimane il bianco, amico. Ancora due di questi. La signora che ha chiamato prima per il verde mela. Ne aveva ancora due fuori. Completo. A 39,1 a 52. Verde mele e bluette. Blu indaco. Guardate, amiche, che bello. Guardate che meraviglia. Vedete la maglia dietro com'è, eh? Molto carina. Swarovski. Regalato, amiche, il completo a 40 Euro. Non aspettate 40 Euro per voi. Opportunità pazzesca. Pomeriggi dedicati a voi. Non aspettate. Col pantalone blu potete mettere la maglia blu indaco o la maglia blu notte. Dipende da voi. Sono bellissime. Oppure la maglia, la maglia bianca. La maglia, la maglia, la maglia, la maglia, la maglia. Grazie.